Il treno in transito sul binario 1 va piano perché è appena partito il TSR per l'Odi, da Cap Train Se era un merci doveva andare a questa velocità O se era un intercity doveva andare a questa velocità Perché 5 minuti fa è partito da qui, dal binario dispari, il TSR, il S1 per l'Odi Quindi vedete che traffico c'è qua Grazie della visione, salve